La contrapposizione conflittuale tra industria e ambiente non rientra nel pensiero del Ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti, al contrario invece sono reciprocamente funzionali e indispensabili. Io credo che, e sono qua per dire questo oggi, che noi dobbiamo coniugare l'ambiente con l'industria e anche con l'industria pesante, abbiamo bisogno l'uno dell'altro, io come Ministro dell'Ambiente ho bisogno che l'industria si adegui a processi produttivi corretti dal punto di vista ambientale e loro hanno bisogno, hanno voglia di farlo, ma hanno bisogno di regole chiare, precise e un percorso molto più semplice di quello che hanno oggi, io mi impegnerò per questo. Allora, in quel caso, Lucchini e Ilva rimarranno dei casi isolati. Le questioni Ilva e Lucchini inoltre rappresentano la cartina tornasole di un altro grande problema che sta affliggendo il nostro Paese, quello dell'occupazione. Ma i prossimi 16 e 17 luglio l'Europa si troverà in Italia, proprio per affrontare e discutere questo problema. C'è un problema forte di occupazione in Italia, noi mettiamo al centro del semestre europeo come ambiente proprio questo tema, il 16 e il 17 luglio abbiamo chiamato qua a Milano tutti i Ministri dell'Ambiente con tutti i Ministri del Lavoro, per mettere l'ambiente, la cultura dell'ambiente a servizio dell'occupazione.